Mondiale 1974, decima edizione del Mondiale e prima edizione con la denominazione Coppa del Mondo FIFA e si svolse in Germania dal 13 giugno al 7 luglio 1974. Cambiando il nome cambiò anche il format della competizione, rimanevano sempre 16 squadre con 4 gironi da 4 squadre, le prime due di ogni girone, poi però non ci furono più i quarti finali e i semifinali, ma bensì altri due gironi da 4 squadre ciascuno. Dove la prima di ogni girone faceva la finale, mentre le seconde classificate facevano la finalina a terzo o quarto posto. La competizione si svolse in 9 stati. Delle 16 squadre partecipanti furono Germania del Lovest, paese ospitante, Scozia, Polonia, Italia, Germania dell'Est, Bulgaria, Olanda, Svezia, Jugoslavia, Brasile, Uruguay, Argentina, Cile, Australia, Haiti e Zaire. Nel gruppo A c'erano Australia, Cile, Germania dell'Est e Germania dell'Ovest. Al debutto i padroni di casa vinsero 1-0 col Cile. Partita caratterizzata col primo storico cattelino rosso usato ai mondiali, i danni del cileno Carlos Shasleli. Anche i cugini di casa dell'Est vinsero al debutto 2-0 con l'Austria. Nella seconda giornata vittoria della Germania dell'Ovest 3-0 con l'Australia, mentre la Germania dell'Est parigio 1-1 col Cile. Nell'ultima giornata pari 0-0 tra Australia e Cile, mentre a grande sorpresa la Germania dell'Est vinse il derby 1-0 con quelli dell'Ovest. Perciò passarono primi la Germania dell'Ovest, mentre i padroni di casa passarono secondi nel gruppo A. Nel gruppo B c'erano Brasile, Jugoslavia, Scozia e Zaire, dove nel match inaugurale del mondiale i campioni in carica del Brasile parigerano 0-0 con la Jugoslavia, mentre la Scozia batte la matricola barra debuttante Zaire per 2-0. Nella seconda giornata altro pari 0-0 per i verde oro, questa volta con la Scozia, mentre la Jugoslavia vinse con un perentorio 9-0 con lo Zaire. All'ultima giornata pari 1-1 tra Jugoslavia e Scozia, mentre il Brasile vinse 3-0 con lo Zaire. Passò prima del girone a Jugoslavia, mentre il Brasile passò secondo, visto la maggior differenza rete rispetto alla Scozia. Nel gruppo C c'erano Bulgaria, Olanda, Svezia e Uruguay. Nel debutto l'Olanda vinse 2-0 con l'Uruguay, mentre pari 0-0 tra Svezia e Bulgaria. Nella seconda giornata altro pari per 0-0 la Svezia, che bloccò gli olandesi del calcio totale. E poi 1-1 tra Bulgaria e Uruguay. Nell'ultima giornata l'Olanda vinse 4-1 con la Bulgaria e passò, e gli orange passarono primi del girone, mentre la Svezia batte l'Uruguay per 3-0, e gli svietesi passarono secondi nel gruppo C. Nel gruppo D c'erano Argentina, Haiti, Italia e Polonia. Al debutto gli azzurri vinsero 3-1 con la debutante Haiti, grazie al gol di Anastasi e Rivera. Mentre nell'altro match vittoria della Polonia per 3-2 sull'Argentina. Nella seconda giornata la Polonia ha spaltato Haiti per 7-0, mentre pari 1-1 tra Argentina e Italia. Nell'ultima giornata l'Argentina vinse 4-1 contro la debutante Haiti, mentre l'Italia perse 2-1 con la Polonia. Inutile il gol azzurro di Fabio Capello. E perciò la nostra nazionale uscì subito ai gironi, per la peggiore differenza reti all'Argentina che passò prima, mentre prima dei gironi passò alla nazionale polacca. Poi inizia la seconda fase dei gironi, dove nel gruppo A c'erano Argentina, Brasile, Germania dell'Ovest e Olanda. Nella prima giornata l'Olanda vinse 4-0 con l'Argentina, tra cui la prima doppietta di Cruyff ai mondiali. E anche i primi gol ovviamente. Mentre Brasile vinse 1-0 con un gol all'ora di gioco di Rivelino, contro la Germania dell'Est. Nella seconda giornata ha trò la vittoria per gli olandesi, questa volta i danni della Germania dell'Est, per 2-0. Mentre Brasile vinse 2-1 con l'Argentina. All'ultima giornata, oltre al match finito in parità tra Argentina e Germania dell'Est per 1-1, nello spareggio che decideva che andava in finale tra Brasile e Olanda, a Dortmund il 3 luglio e venne vinto dagli olandesi per 2-0, con il gol di Cruyff al 65esimo che chiuse il match. E per la prima volta nella loro storia gli orange andavano in finale, mentre i campioni in carica disputarono la finalina per il terzo quarto posto. Nel nuovo gruppo B c'erano Germania dell'Ovest, Jugoslavia, Polonia e Svezia. Al debutto i padroni di casa vinsero 2-0 con la Jugoslavia, col gol che chiuse il match di Gerd Müller. Mentre vittoria di misura della Polonia 1-0 con la Svezia. Nella seconda giornata altra vittoria dei tedeschi, questa volta i danni della Svezia per 4-2, e anche vittoria della Polonia 2-1 con la Jugoslavia. All'ultima giornata la Svezia vinse 2-1 con la Jugoslavia, e gli svedesi arrivarono al terzo posto. Mentre la Germania dell'Ovest vinse di misura 1-0 con la Polonia, con un gol decisivo di Gerd Müller al 75esimo minuto. Perciò la squadra padroni di casa andò a giocarsi la finale, mentre i polacchi giocarono la finalina contro il Brasile. La finalina del terzo quarto posto si giocò il 6 luglio e venne vinta dalla Polonia per 1-0 con il Brasile, che si aggiudicò il terzo posto. Decisivo fu il gol polacco di Lato al 76esimo minuto, quest'ultimo anche capocaroniere della competizione con 7 gol. La decima finale di un mondiale venne giocata all'Olimpia Stadium di Monaco di Baviera, davanti a 75.000 spettatori, tra la Germania dell'Ovest e il padrone di casa che giocò la sua terza finale, mentre ha il debutto in una finale per Olanda di Cruyff. Il match iniziò con una lunga serie di passaggi degli olandesi, fino a quando Cruyff, con una rapida accelerazione, entrò in area e venne atterrato da Uli Hubnel, perciò l'abito inglese Taylor diede il calcio di rigore, e dove al secondo minuto venne trasformato il rigore da Johan Neskas, 1-0 per l'Olanda. Poi la squadra olandese continuò la trama di gioco, in pieno controllo del match, fino al 25esimo minuto, dove ci fu un altro tiro del dischetto, ma questa volta dei tedeschi, dove Paul Breitner trasformò il tiro dagli 11 metri, perciò 1-1. Poi i tedeschi, carichi del gol appena segnato, continuarono ad attaccare, dove al 43esimo minuto, e dove la Germania dell'Ovest ribaltò il match, col gol di Gerd Müller dopo una misca in area, e il primo tempo finì 2-1 per i tedeschi. Nel secondo tempo gli attacchi degli olandesi risultarono inconcludenti, e la Germania andò più volte vicino al gol del 3-1, dove prima venne annullato un gol per fuori gioco per Müller, e poi annullato il rigore ai tedeschi. Ma comunque la partita alla fine terminò 2-1 per la Germania dell'Ovest, che vinse il secondo mondiale della storia, e il primo davanti al suo pubblico. Dopo quello vinto nel 1954, e raggiunse nell'Albodora due mondiali vinte, l'Italia e l'Uruguay. Mentre rimase la mare in bocca per gli olandesi, per il buon gioco espresso, ma non bastò per laurearsi i vincitori. Questa è la formazione della Germania dell'Ovest, che vinse il mondiale, 4-3-3. In porta Seppmayer, in difesa Berti Wokst, il capitano Franz Beckenbauer, Hans Schabnack, Paul Breitner, a centrocampo Reinald Boschow, Juli Hubnen, Wolfgang Hovergatt, Jürgen Gramogoski, in attacco Gerd Müller, e Bern Holtzbein, allenatore Helmut Schon.